Il rossanese Omar Palermo, 42 anni, per lungo tempo una vera star delle rete con lo pseudonimo di Yotuba Anche Io, è morto ieri nella casa di cura Tirenia Ospital di Belvedere Marittimo. Lo Yotuba risiedeva nel centro storico di Rossano ma da più di sei mesi era le prese con un complesso percorso di riabilitazione dopo un incidente domestico che gli aveva provocato la frattura di una gamba lo scorso gennaio. Un lungo processo di ripresa fisica, reso particolarmente delicato dalla corporatura dell'uomo che pesava oltre 100 chili. Per anni il maestro, così lo chiamavano i fan, era stato assente dal suo canale YouTube da più di 550.000 iscritti, dove pubblicava video che testimoniavano le sue imprese a tavola.